mi manca solo la decorazione e ho finito paola cosa è successo ma ti mancano le vasi aspetta e vedrai prendiamo l'accessorio pasta wheel per decorare la nostra torta salata abbiamo la possibilità di scegliere tra diverse rotelle e di creare tre diversi motivi in questo caso il liscio abbiamo poi due a z, quello più stretto e quello più largo io in questo caso utilizzerò quella a z, così è più carina la torta svitiamo la vittina facciamo un cambio di rotellina e riavvitiamo a questo punto andiamo a creare le striscioline della larghezza che più preferiamo preparare i nostri dolci, i nostri gressini e tutte quelle preparazioni salate ci vorrà veramente un attimo un'altra strisciolina e abbiamo finito facciamo anche due ed ecco qui mi piace vincere facile grazie a tutti